Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla FIPILI per lavori, 4 km di coda in direzione mare tra l'Astra Assigna e Ginestra. Per traffico intenso ci sono code in uscita all'Astra Assigna in direzione mare e rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per un veicolo in avaria coda in direzione Firenze tra Montelupo e Ginestra. Chiusa per lavori l'uscita di Tirrenia provenendo da Firenze. In A1 per incidente, 1 km di coda tra Firenze Sud e in Cisareggello in direzione Roma. In direzione Bologna, code per traffico intenso tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. In A11 per traffico intenso in direzione Pisa, code tra Firenze Ovest e Prato Est. Buon versi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!